Oltre 1.500 imprenditori da tutta Italia per la manifestazione di Milano, organizzata da Confartigianato, quelli del Sì chiedono di realizzare le infrastrutture Tave e Pedemontane in primis, ma anche di tagliare la burocrazia e le tasse sul lavoro, il nostro reportage. Diversi ospedali, una sola cabina regia, le chirurgie di Varese, Luino e Tardate scommettono sulle rispettive professionalità evitando sovrapposizioni, allarme e obesità, migliaia di interventi previsti. 5 milioni di euro per risanare il lago di Varese, una dote mai così ricca per una sfida vecchia di decenni, in campo il leghista Emanuele Monti pronto a portare in consiglio regionale un emendamento a bilancio. I giocatori del Varese Calcio hanno saltato l'allenamento di oggi in segno di protesta per il mancato versamento degli stipendi di ottobre e novembre, ma secondo Fabrizio Berni sarebbe tutto sistemato da ieri. Un saluto a tutti e bentrovati. In primo piano la manifestazione nazionale che si è svolta oggi a Milano, voluta da Confartigianato e intitolata Quelli del Sì. Sì alle infrastrutture, sì al taglio della burocrazia, sì alla diminuzione del cuneo fiscale, sì al sostegno alla formazione. Oltre 1.500 gli imprenditori arrivati a Fiera Milano City da tutta Italia. Il nostro reportage. Milano congressi, gli arrivi continuano ad affluire, la sala si sta riempiendo. Oggi è il giorno della grande manifestazione di Confartigianato, una mobilitazione nazionale per dire sì, sia alle infrastrutture, al rilancio dell'occupazione, sì all'agevolazione di coloro che creano lavoro, coloro che esportano, coloro che facilitano la ricchezza del Paese e che oggi, ancora oggi, dopo quasi dieci anni di crisi, faticano a risollevarsi. In otto anni scrive nel comunicato Confartigianato nazionale l'Italia ha bruciato 122.000 posti di lavoro, gli investimenti pubblici sono crollati del 37,7%, il divario nel capitolo infrastrutture tra il nostro Paese e la media europea tocca quota 20%, per l'esattezza 19,5%, ma questa è una percentuale che si aggrava guardando alle regioni più trainanti dal punto di vista imprenditoriale come la Lombardia e il Veneto perché lì il 20% viene abbondantemente varcato e questo per infrastrutture che noi del Varesotto conosciamo bene, ad esempio la Pede Montana che è ancora tarda ad essere completata per tacere della TAV, quella che tanto è odiata dai comitati del no. Ed è proprio a quei comitati che Confartigianato ha intitolato la giornata di oggi con una denominazione emblematica, quelli del sì, sì appunto a ciò che agevola le imprese, agevola la mobilità, agevola il rilancio, la ripresa. Il problema non è sì TAV, no TAV, il problema è sì alle infrastrutture materiali e immateriali perché questo paese ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno che noi per parlare con il mondo, per esportare i nostri prodotti e quindi i nostri prodotti il 60% viaggia su ferro o su gomma, quindi sì a tutte le infrastrutture, non si può pensare di progredire dicendo di no. A proposito di lavoro, dal decreto dignità la Lega ha vantato un intervento perché ha detto da quando noi siamo intervenuti lo abbiamo limato, lo abbiamo migliorato, i 5 Stelle lo volevano troppo severo. Voi avete effettivamente avvertito un miglioramento o la situazione è quella di prima, quella che limita i contratti? Allora, se dobbiamo prendere il valore assoluto limita i contratti, se dobbiamo fare un ragionamento collegato a un discorso più nostro che è quello strettamente vincolato al valore artigiano che è la piattaforma del Made in Italy, credo che ci azzecchi poco perché per noi serve il personale qualificato, il ragionamento si amplia a dismisura, bisognerebbe investire soldi sull'apprendistato, chi assume quel contratto di apprendistato perché anche lì si dà un futuro a una persona e si crea una persona qualificata che ha un suo mercato in un mercato del lavoro e si dà una prospettiva certa. Se invece, anche guardando quello che è successo con il passato governo, si pensa di creare stipendi, non si va da nessuna parte, bisogna creare posti di lavoro. Noi non assumiamo una persona perché costa meno, noi assumiamo una persona perché ci serve. Formare un apprendista, qualcuno dice è un costo, no, è un investimento, torniamo prima, è un investimento, quindi noi non investiamo così per il gusto di farlo, è un costo, benissimo, facciamo un debito, benissimo, non ci fa paura pagare debiti. Se questo ragionamento fosse stato fatto anche verso l'Europa, la reazione sarebbe stata secondo me, con toni bassi, anche diversa. Ed ecco alcuni di quelli del sì e sono del Varesotto, del nostro territorio di Confartigianato, giunti a Milano per ascoltare ma anche e soprattutto per parlare, ovviamente non solo con noi, tra loro c'è anche il vicepresidente di Confartigianato Imprese, Varese Zilliotti. Cominciamo da lei, perché questa massiccia partecipazione che davvero non ha precedenti sotto le insegne di Confartigianato? Ma sicuramente è importante a sostegno di quello che il governo vuole fare. Noi siamo quelli del sì nel senso che vogliamo sensibilizzare ulteriormente quelle che sono le iniziative che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni nei vari incontri che abbiamo fatto. Faccio l'esempio del discorso della proposta di legge delle aree di confine, la defiscalizzazione dei dipendenti per evitare che vadano a lavorare in Svizzera, il discorso delle infrastrutture che devono essere terminate, perché comunque la provincia di Varese è molto penalizzata da questa cosa, un'impresa nostra associata di lui in ora che arriva a prendere l'autostrada e ci vogliono tre quarti d'ora. Qual è, dovessi riassumere ciò che ogni volta a fine mese o a metà del mese si trova in azienda e dice ma perché il paese è così? Guarda, la cosa che posso dirti per me è la burocrazia invece, perché la burocrazia in questo momento è quella che ci ferma su tante cose, per cui noi non diciamo no, diciamo sì, ma veniteci incontro su quello che noi chiediamo. Lei è d'accordo alla burocrazia o qualche altro problema che la SIL? No, la burocrazia soprattutto perché è troppo complicata e la vanno sempre ulteriormente a complicare. La burocrazia ma anche le risorse che mancano per affrontare questa burocrazia, nel senso che nelle nostre piccole e medie imprese per affrontare la burocrazia avremo bisogno di risorse umane che talvolta non ci possiamo permettere per affrontarle e quindi dobbiamo magari chiaramente affrontare dei costi aggiuntivi aziendali che uniticamente alla pressione fiscale vanno a dare un peso rilevante al bilancio poi finale. Io mi sento di parlare anche per gli imprenditori un po' più giovani e dico che siamo qui anche per un sì al futuro, un sì a una formazione che sia all'altezza delle imprese italiane, dell'imprenditoria italiana, un sì quindi a tutti i giovani che vogliono fare imprese in questo paese che sembra sempre più difficile perché oltre alla burocrazia ci sono anche tantissimi altri problemi che gravano sulle imprese, specie quelle giovani, corsi di formazione che molti enti erogano ma che poi a distanza di due o tre anni sono ancora ore da perdere perché sono ore che si perdono dal lavoro aziendale per rimanere sempre più aggiornati quindi una formazione più concreta alla base, più legata all'azienda. Altro varesino di confrattigianato, Paolo Rolandi, siamo favorevolmente stupiti dallo spirito costruttivo del titolo, quelli del sì, non del no e della protesta però in realtà la voce tonante di Giorgio Merletti già ci ha detto molto su un po' di delusione nei confronti di un esecutivo che sembrava davvero la svolta ma per voi ancora non c'è stata. Ma dei segnali di apertura verso il nostro mondo ci sono, delle parti di attenzione non possiamo ignorarle, tuttavia quello che ci lascia sempre un po' perplesso è questa incongruenza tra quello che si dice e quelle che sono le intenzioni rispetto a quello che sono i fatti. Oggi in maniera particolare si parlerà di infrastrutture, di non fermarle un piccolo aneddoto, l'altro giorno per raggiungere Bergamo ci ho messo due ore e tre quarti dovendo fare delle modifiche al percorso perché l'unica autostrada che consente il collegamento tra Varese e Bergamo era bloccata all'altezza di Lainate ci ho messo un'ora e un quarto ad arrivare a Lainate quelli del sì vuol dire che queste infrastrutture per noi sono vitali. E altre interviste, altre retroscene, altri racconti di questa importante giornata di economia ma fisiologicamente anche di politica vi saranno raccontati e forniti sabato in un ampio speciale che Rete 55 dedicherà nell'ora dei Tg alla manifestazione di confrattigianato. La cronaca, il rimorchio di un semiarticolato si è ribaltato e parte del gasolio si è sparso per la strada. È accaduto a Quassolmonte in via Garibaldi stamattina presto, verso le 5 i pompieri intervenuti immediatamente sul posto hanno messo in sicurezza l'area e hanno travasato il liquido della cisterna. Vigili del fuoco al lavoro anche a Casazzuigno ieri in tarda sera intorno alle 23 sulla martoriata statale 394 per cause ancora in fase di ulteriore verifica due auto si sono scontrate. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato al soccorso degli automobilisti coinvolti. Parliamo adesso di salute e di una cabina regia unica per le varie chirurgie che costellano la SST Sette Laghi. Come sapete l'azienda conta 6 ospedali tra questi Varese, Luino e Tradate. Vediamo. Per la SST Sette Laghi la regia è tutto. Un cervello, tante braccia in modo che vi sia omogeneità di intervento e che non esistano più ospedali e quindi utenti di serie A o serie B a seconda della dimensione dei primi o della residenza dei secondi. L'azienda Varesina opta per una strategia unica ad applicare alle chirurgie di ciascun presidio. Nessuna sovrapposizione, quadri clinici condivisi, percorsi di cura che a ciascuna esigenza del paziente offra la struttura migliore e le professionalità più indicate. Un approccio che soddisfa il direttore di dipartimento. E che ci permette, spero tantissimo, di poter soddisfare non solo la qualità delle prestazioni attese dalla popolazione ma anche i tempi. In linea con questa modalità di intervento, le chirurgie di Luino e Tardate presentano le rispettive peculiarità. Sulle rive del lago troviamo l'ambulatorio di proctologia per affrontare patologie di natura organica o funzionale. Per poter dare una risposta univoca e organica al maggior numero di pazienti che afferiscono agli ambulatori proctologici aziendali che sono distribuiti su tutti i presidi dell'azienda. Organizzare quindi i percorsi per terapeutici, organizzare i trattamenti più accurati per i pazienti e anche ottimizzare le risorse che come sappiamo sono sempre meno ma che possono essere comunque messe in campo in maniera oculata. Tardate si pone invece come punto di riferimento per la lotta all'obesità. Sei milioni di casi in Italia, a migliaia di quali la dieta non basta, serve la chirurgia nella fattispecie quella bariatrica. A tradate abbiamo avuto due fortune, una è quella di avere anche la rianimazione quindi come presidio, quindi fare interventi anche su pazienti più complessi e poi una Onlus che è la Goodbye Obesità che ha donato un letto operatorio all'azienda proprio per eseguire anche gli interventi su quei pazienti con pesi elevati. E a proposito di salute, un'anteprima sulla nostra rubrica in onda martedì dopo il Tg e che proprio di salute si occupa perché stamattina si è svolto un importante convegno sul linfoma non Hodkin, un tumore che purtroppo colpisce molti bambini. Si è svolto a Varese nella Olamagna di via Dunant, la responsabile dell'iniziativa è stata la dottoressa Maddalena Marinoni. Tanti gli aspetti importanti emersi nel corso di questo lavoro clinico, scientifico e molto basato sulla ricerca e sugli aggiornamenti nella cura ve li forneremo appunto dopo il Tg di martedì nella nostra rubrica salute. E adesso parliamo di politica e di tutt'altra tipologia di salute, la salute del lago di Varese. Come sapete il risanamento sembra quasi un'utopia, oggi è tornata a parlare nella Lega che dal Consiglio regionale è pronta a presentare un emendamento con ben 5 milioni di euro sul piatto per salvare il lago e restituirlo alla balneabilità. Mi ricordo che ero un bambino quando iniziavo a seguire i primi comizi di Bossi che ricordava dobbiamo risanare il lago di Varese. Il lago di Varese che ha sofferto tanti anni di scarichi abusivi che lo hanno reso non più balneabile. Mio papà come tante persone che ci seguono da casa hanno fatto il bagno nel lago di Varese e se lo ricordano balneabile. E chissà, forse il sogno sta davvero per tornare in realtà al netto di annunci e promesse. Su iniziativa della Lega, Regione Lombardia sta per mettere sul piatto 5 milioni di euro per un emendamento al bilancio che dovrà dare avvio ad un intervento finalmente deciso, cadenzato, articolato, col supporto dei comuni lacustri a cominciare i precisamonti da quelli di Fede Leghista, Bugugiate e Bodio Lomnago e un appello anche agli alleati. Innanzitutto la richiesta che io faccio, lo faccio anche qui da Rete55 all'assessore Cattaneo che ci ha seguito bene nella partita, di deliberare entro fine dell'anno un accordo di programma che stabilisca i tempi, che dia dei tempi certi e dia delle azioni concrete. Le azioni concrete devono partire dal controllo degli scarichi abusivi perché se ci sono dei furbi devono essere penalizzati e devono pagare. Secondo, bisogna far partire tutta la macchina che permetta di risanare il lago, diminuendo il tasso di fosforo che è presente all'interno del lago stesso e darci al massimo tre anni per fare questa progettualità. Il valore oggi ipoteticamente è attorno ai 5 milioni di euro. Noi iniziamo a bloccare delle risorse con questo emendamento al bilancio, inserirle nei conti di Regione Lombardia e poi seguiamo l'evoluzione del progetto. E siccome gli obiettivi più ambiziosi si raggiungono solo remando tutti nella stessa direzione, molto dipenderà dalla reazione della Varese Piddina, di fronte ad un bene comune, ad un obiettivo senz'altro condiviso, ma anche ad un'iniziativa in arrivo dal centro-destra e a pochi mesi dalle elezioni europee e amministrative. Sul punto il Varesino Pinti taglia corto, il futuro del lago non è materia da campagna. Sì, è un tema che è sulla bocca di tutti quando ci sono le elezioni, però oggi contano i fatti. 5 milioni di euro sono il più importante intervento degli ultimi anni per il lago di Varese ed è un merito che va al centro-destra e soprattutto alla Lega con l'impegno dei sindaci del territorio e di Emanuele Monti per portare a casa questo finanziamento. Da tanti anni non si vedevano così tante risorse e finalmente si può almeno pensare di aver percorso la strada dal punto di vista giusto. E a margine dell'iniziativa leghista, una nota del Partito Democratico che per bocca del segretario cittadino di Varese, Luca Carignola, si dice scioccato dall'iniziativa di Emanuele Monti e del Carroccio. Il lago di Varese è stato al centro della campagna elettorale con cui Davide Galimberti è stato eletto sindaco, ricorda il PD Carignola. Ci auguriamo che questa non sia solo propaganda pre-elettorale ma un modo concreto per salvare il nostro largo e che quanto annunciato da Emanuele Monti appunto non faccia parte della politica degli annunci ma sia improntata alla concretezza. Questo è l'intervento del PD di Varese. A Cardano al Campo uno sportello antiviolenza nell'ufficio dove lavorava la compianta Laura Prati. Contro la violenza, nel nome di Laura, l'associazione Filorosa Hauser di Cardano al Campo, operativa con un centro di ascolto in biblioteca già dal mese di marzo, rende omaggio alla sindaca Prati che perse la vita nel 2013 aggredita da un ex vigile urbano. Lei fu la prima a credere nel progetto di Filorosa e si impegnò per assicurare alle volontarie uno spazio dignitoso dove lavorare e dove accogliere le donne vittime di violenza. Per mantenere vivi il suo ricordo e il suo esempio sulla porta dell'ufficio è stata posta una targa. Da marzo del 2018 Filorosa Hauser ha aperto all'interno del comune uno sportello, un centro d'ascolto e la sede del centro d'ascolto è proprio quello che una volta era l'ufficio di Laura Prati e quindi è stato normale insomma riconoscere questo legame perché vogliamo che comunque quello resti sempre l'ufficio di Laura e quindi sta posta appunto questa targa. Tante le donne aiutate da Filorosa Hauser, sono ancora molti i casi di violenza purtroppo afferma la presidente dell'associazione cardanese Loredana Serraglia. Avete già aiutato molte donne dal mese di marzo appunto sono vari casi che avete iniziato a seguire proprio all'interno di quell'ufficio, quindi all'interno della biblioteca. Sì, effettivamente abbiamo avuto nove donne che si sono presentate nel nostro sportello, cinque hanno un percorso, hanno già la loro cartella perché bisogna preparare tutto e avere contatti con i carabinieri, con gli enti sociali, il comune, no? Dobbiamo fare tutti i passaggi e quattro invece sono in contatto telefonicamente. Io volevo dire che quest'anno è stato un anno brutto perché le donne che hanno subito violenza e che sono morte anche per questa violenza sono un centinaio circa in tutta Italia e la Lombardia ha il primato di 11 donne uccise. Fondamentale il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, attività volte ad educarli al rispetto dell'altro, al dialogo, al confronto. Sono aumentati i casi di bullismo e noi consideriamo sempre il bullismo come violenza. Ovviamente non violenza alle donne, ma una violenza in famiglia, comunque dal mio punto di vista c'è sempre, perché se il ragazzo è un bullo parte comunque da un'educazione che non ha ricevuto in famiglia oppure da una congregazione di ragazzi. Di nuovo a Varese, a Villa Ponti, dove la Camera di Commercio è tornata, come fa ogni anno a parlare di turismo. I dettagli. Formarsi per crescere. Ultima tappa del progetto Formazioni in Lombardia, dedicato al settore turismo, rivolto alle zone di Varese, Comu e Lecco e che ha visto in campo, alle ville Ponti, Regione e Camera di Commercio. Obiettivo? Promuovere l'offerta ricettiva del territorio, migliorandola e arricchendola. Una giornata di approfondimento e di workshop dedicati agli specialisti del settore. I numeri parlano chiaro. Se nel 2005 gli arrivi erano 565.000, alla fine dello scorso anno hanno toccato quota 1.420.000. Bisogna proseguire su questa strada con grinta e determinazione, dice il Presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi. È un percorso che abbiamo avviato qualche anno fa e deve proseguire in questa direzione. Formazione e innovazione. Varese è un'eccellenza in questo perché abbiamo crescite importanti. Nel 2005 erano poco di più dei 500.000 i turisti, oggi abbiamo superato 1.400.000 arrivi e in continua crescita dopo Expo. Quindi il territorio della nostra provincia, grazie anche al lavoro di Camera di Commercio e Sport Commission, è in grande crescita. Quindi adesso rimboccarsi le maniche e lavorare sempre meglio. Internet ma non solo. Lunghi sottolinea il valore del contatto umano, che ancora oggi può fare la differenza. L'online è fondamentale, io vorrei però mettere l'accento sull'importanza dell'offline, cioè del rapporto diretto e personale con le persone quando arrivano, perché sono il miglior viatico. Non esiste il bene e il male, il bello e il brutto, ma esiste la buona accoglienza e un bel sorriso che fa sentire il turista a casa sua. Quarta teoria, primo fumetto. Un artista del nostro territorio, il mannatese Marco Macecchini, in arte Mac, dalle stampe un fumetto che appunto trasforma in creatività e fantasia il manifesto politico di Dugin, quello a cui anche la Lega si ispira. Quarta teoria, primo fumetto. Alexander Dugin, il padre dei sovranisti europei, artefice di un concetto virtuoso di populismo che affonda le radici nella visione del suo connazionale Dostoyevsky, il quale definì populista non chi segue la pancia del popolo, bensì chi sa ancora ascoltarlo, ispiratore dell'asse eurasiatica che ruota intorno al perno moscovita di Putin, irradiandosi in tutta Europa e che punta a prendere il meglio di comunismo, fascismi e liberalismo per poi archiviarli tutti e tre, beh, quel Dugin può dirsi soddisfatto. Se è vero che il suo manifesto si rivolge alla cultura popolare, ecco la rappresentazione più variopinta e creativa di quell'ambizione. grazie al malnatese Marco Maccecchini, in arte e mac, e al suo fumetto, al protagonista Alexo e alla rocambolesca Ricerca del Vello. Il progetto nasce per la novità e il fascino di questa possibilità, di questa apertura, di questa finestra sul futuro, sia dal punto di vista politico, geopolitico, che è davvero nuova e interessante, sia dal punto di vista professionale, quindi una possibilità di seguire, di restare, come si dice, sull'orlo del caos, sulla cresta dell'onda che si espande. Il mio fumetto nasce con l'idea di tagliare completamente i tempi graduali con cui si potrebbe arrivare a... cioè, vieni subito al dunque, diciamo, non attendi che vi sia la maturazione della teoria. Sì, in questa storia, tramite il vello d'oro e tramite tutte, diciamo, le tecniche che possono essere magiche, piuttosto che tecnologiche, e sono fuse in questo fumetto, il protagonista riesce a legare e a creare un legame reale tra il mondo immortale degli dèi e l'uomo. In arte, si sa, realtà e finzione si mescolano, annullandosi ed esaltandosi a vicenda. Ed ecco che la teoria di Dugin trova spazio e concretizzazione in ciò che è autenticamente inventato e quindi, per definizione, incredibilmente realistico. A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani, nella notte, all'alba, molto nuvoloso, coperto con residui e precipitazioni, poi schiarite a partire dalla Lombardia nord-ovest. Temperature massime previste tra 4 e 7 gradi, temperature minime previste tra meno 1 e 2 gradi. Per la prima parte è tutto. Tra poco la pagina sportiva, che per oggi avvia anticipo con una notizia giunta poco fa in redazione, questo pomeriggio i giocatori del Varese Calcio hanno deciso di non allenarsi in segno di protesta per non aver ancora ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre. Sapete che nel calcio dilettantistico in realtà si parla di rimborsi spesa, non proprio di stipendi, ma comunque, insomma, di quattrini parliamo. In realtà, Fabrizio Berni, proprio ieri, aveva detto di aver sistemato tutto, di aver già effettuato i versamenti, ma comunque questa forma di sciopero calcistico, si è comunque svolta oggi allo stadio di Varese. Domani tutti i dettagli, nel frattempo sigla e pagina sportiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti.